Domenica sera di lavoro per i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese che intorno alle 19.30 Le 20.30 di oggi, 28 gennaio, sono stati inviati a San Maurizio in via Baglioni al Civico 83 per un principio di incendio al cammino di una villetta. I volontari in poco tempo hanno scongiurato il peggio spegnendo sul nascere il rogo. Alle 21 la squadra, dopo aver terminato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è rientrata in distaccamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.